I'll strike Gundam modello rg real grade questa scatola quindi come modello non tecnologico è il numero 3 tutte le scatole degli rg avranno probabilmente il numero che indicherà esattamente qual è il proseguio dei modelli che sono usciti quindi scatola di un packaging on design molto 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 bello ma vediamo il suo contenuto manuale dopo lo vedremo più nel dettaglio e cominciamo con i vari stacchettini quindi il stacchettino le parti grigie per quanto riguarda gli inestrame un altro stacchetto sempre con i vari componenti scudo, taglio le parti che comprendono e permettono di fare l'esoschetro già diciamo assemblate quindi non soltanto sbligate ma dentro la stica invece tutto sticker si va agli sticker adesivi e si va agli componenti, le spade i componenti per l'Istrike vediamo il manuale il manuale quindi l'Istrike Gundam la particolarità appunto della serie rg è la presenza dell'esoscheletro quindi praticamente dell'inner frame che si compone con questi pezzi che vi ho fatto vedere bello è proprio quello di avere anche un inner frame che permette veramente una possibilità molto molto incredibile quindi si possono fare delle pose molto molto interessanti come vedete qua il manuale classico stile da Kit Gunpla quindi molto chiaro per chi ha già molto un Gundam ma anche per chi non ha ancora montato cosa interessante anche di questo modello è sicuramente nella parte qua finale la presenza dell'Istrike quindi che si può attaccare direttamente al modello ma ancora più interessante è quello di completarlo quindi mettere a corredo anche lo Sky Grasper che è esattamente il compagno ideale per questo tipo di modello la spiegazione su come si compone e si monta e nella parte finale l'ultima per copertina spiegazione se si vogliono usare i colori nel caso si voglia aerografare e come vanno posizionate le varie decals presenti all'interno della confezione quello che consiglio sicuramente è quello di usare per le panel line un Gundam Marker per renderlo ancora più interessante un saluto dal nostro Robby alla prossima, ciao! Grazie a tutti!